Buonasera al gentile pubblico. Io mi chiamo Leonardo Mancini e ho il piacere di introdurre e condurre l'incontro con Gabriele Lavia e con la compagnia che da ieri recita al Teatro Carignano un curioso accidente di Carlo Goldoni. Prima di dare avvio al nostro incontro, una premessa, un avviso, alla fine dell'incontro si svolgerà una prova di evacuazione anti incendio. L'unica cosa che dovremmo fare sarà seguire le indicazioni delle maschere del personale di sala che ci accompagneranno verso l'uscita in tutta tranquillità e quella sarà anche la fine dell'incontro all'incirca fra un'ora. Abbiamo peraltro tempi contingentati ma sarà comunque possibile rivolgere domande con un microfono a Gabriele Lavia e alla compagnia. A me allora è il piacere di avviare questo incontro sul ricchissimo spettacolo che Lavia ha offerto ieri sera al Teatro Carignano intorno a un testo tutto sommato poco noto rispetto ai capolavori di Goldoni, un curioso accidente del 1760 come lo stesso Lavia, attore capocomico, spiega nella sua premessa allo spettacolo sulla scena. Io ho avuto anche peraltro la fortuna e il privilegio di sedere sul palcoscenico in un gruppo di spettatori che assistono, che assiste alla rappresentazione da dentro un po' come siamo noi adesso. Dunque Lavia ingombra la scena e tira qualche tranello anche a Goldoni, un Goldoni successivo alle sue riforme nel quale tuttavia sopravvive un curioso personaggio della Comunità dell'Arte, Arlecchino, che qua e là spunta durante lo spettacolo. Ebbene il teatro è occupato anche dagli spettatori ed è un teatro malmesso, malconcio. I pezzi della scenografia cadono, allo specchio manca qualche lampada e la scenografia invade il palcoscenico e un tenone rosso si sdraia quasi fino alla platea. Allora ci verrebbe da pensare ecco una regia di Goldoni novecentesca, pirandelliana, in cui si abbatte la quarta parete. Ma in realtà si abbatte anche il mondo e a mio avviso questo spettacolo dice tanto della visione del mondo e del teatro che Lavia ha all'apice della sua pluridecennale carriera, una carriera che ha toccato profondamente anche la città di Torino e nella quale ci sembra di tornare a casa risentendo alcune parole che di comico hanno proprio poco Il mondo è finito. Ecco allora che Un curioso accidente si mostra in questa interpretazione per la sua modernità, per la sua toccante capacità di affrontare temi in un secolo, quello dei lumi, che è anche un secolo che si presenta come un laboratorio del teatro moderno e della società moderna. Parleremo anche, spero, anzi sicuramente del ruolo della donna che emerge in questo spettacolo come la figura più decisiva in una società di uomini che si danno alle guerre e si curano poi le proprie ferite in maniera assai malconcia e malandata. Più raffinata invece è la figura femminile e questo spettacolo ne mostra la cume, mostra la cume con cui Goldoni tratta a fondo proprio il tema della donna, a mio avviso. E con queste premesse mi piacerebbe domandare a Gabriele Lavia da dove origina la scelta di questo testo e con quali strumenti del mestiere l'ha affrontato con i suoi attori? Intanto ti devo fare i complimenti perché hai letto il testo proprio perfettamente. Non mi è mai capitato. No, hai detto proprio poche cose ma le cose importanti di questo testo e quindi ti faccio i complimenti. È raro, è rarissimo. È frutto dell'ospettacolo. Soprattutto quelli che conducono un incontro col pubblico. E dunque per tutte le ragioni che hai detto la scelta del curioso accidente volevo farlo da diverso tempo perché io ho fatto diversi Goldoni e amo i Goldoni considerati minori perché mi piace non le vette la locandiera i rusteghi no, un curioso accidente il vero amico la donna vendicativa ho sempre frequentato ho sempre frequentato Goldoni di sguincio Goldoni che non sono passati alla storia come i capolavori ma dentro ci sono ecco la donna vendicativa che è già il titolo dice tutto il vero amico già il titolo dice tutto perché è proprio il vero amico che farà le corna all'amico con la sua fiducia e così il curioso accidente e niente mi è venuto in mente di fare ce l'avevo in mente da un po' di tempo poi ci ho lavorato su non mi piace molto la divisione tra il palcoscenico e la platea questo testo mi dava la possibilità essendo un testo leggero apparentemente mi dava la possibilità di avere degli spettatori anche sul palcoscenico ho scritto le parole di un paio di canzonette che poi Andrea Nicolini ha musicato sta di qua stavo cercando di là non ti vedevo e cercavo una barba bianca e invece stava di qua e che dice appunto il teatro è una svolta misteriosa una svolta perché dove l'inizio torna sempre a noi e il teatro è come se ci fosse una svolta che fa ma non siamo noi il teatro non siamo gli attori ma è quella svolta del tempo dove l'inizio ci ritorna noi ci mettiamo a recitare davanti a voi voi vi mettete ad assistere a degli attori che recitano e anche se non lo sapete quella svolta che sono l'origine del teatro Eschilo ma noi non sappiamo i nomi a noi sono rimasti Eschilo Sofocle Euripide ma pensate quelli che hanno scritto le commedie che sono spariti quanti goldoni saranno apparsi nell'antica Grecia noi sono rimasti solo pochi e quindi noi siamo dentro quella svolta quella svolta del teatro il teatro che è il luogo della rappresentazione dell'uomo l'uomo ha capito di essere un uomo nel momento in cui si è visto rappresentato e ha detto io sono come lui tant'è che questo mito del riconoscersi non l'ultimo arrivato ma William Shakespeare lo mette come centro dell'amleto quando arrivano nella reggia di El Sinore gli attori e lui fa recitare a questi attori davanti agli occhi del re che ha assassinato il padre un testo intitolato l'assassinio di Gonzago dove il fratello uccide appunto questo tale Gonzago di fronte alla visione recitata ricitata di fronte al teatro del proprio delitto quest'uomo non resiste e scappa gridando luce luce e questo lo spiega così bene che cos'è il teatro Shakespeare noi siamo dentro voi siete abituati a venire a teatro molti a teatro non ci vanno ma anche nell'antica Grecia era così non è che ci andassero tutti si annoiavano perché comunque il teatro è una fatica è una fatica fisica per noi meno per i greci di più mi sono sempre chiesto se offrissero dei cuscini non credo probabilmente se li portavano da casa sicuramente perché non è che erano molto diversi diverse dalle nostre le loro natiche per cui se sarete andati a Siracusa a vedere non è facile seguire poi erano lunghi gli spettacoli molto più lunghi di quelli che facciamo noi che abbiamo dato il tempo al nostro spettacolo sulla base del tempo del cinema col tempo abbiamo imparato a fare i tagli oggi se uno fa amleto lo fa durare tre ore massimo con l'intervallo ma se uno recita tutto l'amleto dura cinque ore la prima volta che ho fatto amleto io l'ho recitato tutto integrale era cinque ore di recitazione più l'intervallo però il pubblico rimaneva rimaneva a un certo punto si sentivano squillare tanti telefoni non c'era ancora il telefonino nella biglietteria erano le madri i padri delle ragazze che erano venuti a vedere lo spettacolo ma dice ma cosa è no non finisce mai bene ho parlato troppo che devo dire ancora qualcos'altro questo spettacolo potrebbe anche essere definito un concerto intanto perché ci sono le musiche di scena eseguite dal vivo e su cui vorremmo sapere i testi delle canzoni come sono stati elaborati intanto perché non farne un disco vediamo con questo vorrei dire che lo spettacolo no niente lo spettacolo comincia che ci sono degli spettatori che guardano degli altri spettatori e questo se vogliamo a livello profondo vuol dire qualcosa che a teatro noi guardiamo noi stessi se non accade a teatro che noi guardiamo il noi stesso che è la rappresentazione e gli attori qualcosa non funziona ci annoiamo perché noi non ci annoiamo quando in qualche modo per qualche via che non siamo capaci di definire perché il teatro come dice la canzone che cantiamo all'inizio è una svolta misteriosa dove l'inizio torna sempre a noi e infatti noi diciamo andiamo a teatro non andiamo non diciamo andiamo a vedere un curioso accidente e questa svolta strana dove andiamo lì e l'inizio torna sempre a noi cos'è l'inizio? non lo sappiamo cos'è l'inizio non sappiamo il primo spettacolo della storia dell'umanità in un luogo che si chiamava teatro sono stati trovati dei resti di legno di teatri greci è credibile che sia nato in Grecia perché in Grecia è nato il pensiero dell'uomo come noi almeno occidentale magari qualche tribù dei Pelle Rossa non lo so dove sia nato il pensiero anche loro avevano rappresentazioni in qualche modo però il teatro teatron il trono della dea dea vuol dire sguardo tea teoria visione io guardo il teatron il trono della dea la dea è la aleteia la svelatezza tradotta male dai latini con veritas veritas da verum barriera muro portone questo ci dice molto dell'orrore latino sulla sapienza greca la verità si chiama è imposta è la barriera del soldato romano che facendo lo sgambetto getta il nemico in terra lui diventa verum e quello diventa falsum da fallere il guaio dell'occidente nasce qui l'unica salvezza che l'occidente si è procurato non tiro l'acqua al mio mulino è proprio il teatro il teatron il trono dello sguardo tea la dea e la aleteia la svelatezza di svelatezza di che? del velato tradotta male dai latini con veritas da verum non ha niente a che vedere la svelatezza perché la svelatezza del velato rimane pur sempre il mistero un altro mistero e per questo che il teatro poteva nascere solo in una civiltà con una mente superiore che aveva gli dei infiniti dei vuol dire sguardo dio vuol dire teo quello che da dentro quello che io vedo mi guarda in questo momento voi state guardando me ognuno di voi coglie il dio il teo lo sguardo che viene da me il teatro nasce da qui vedete sentite questo silenzio questo è già teatro non lo sappiamo ma l'uomo non può eludere il teatro non morirà mai vi ricordate quando dicevano lei che ha la barba bianca pure lei quando dicevano che il cinema avrebbe ucciso il teatro il cinema è morto non ci va più nessuno i cinema sono diventati sempre più piccoli adesso hanno chiuso sono diventati boutique diventeranno pizzerie sotterranee ma il teatro sta sempre lì perché? perché è vivo è vivo è un'altra storia è la storia dell'uomo il cinema è una tecne è arrivato non il mio è arrivato questo e ha ucciso il cinema perché uno si fotografa si fa vedere che balla davanti se lo manda e stanno a guardare queste cose qui lo sappiamo perfettamente come funziona il meccanismo della tecne ogni tecne viene superata da una nuova tecne il teatro non è una tecne è una logos dicevano il teatro è parola e poi anche una fysis una fisicità come fai a eluderla e non morirà mai erano anni che aspettavo un altro incontro di retroscena con Gabriele Lavia lo dico veramente ma chi arriva scusa ma è per me una verità abbastanza profonda da un incontro con Gabriele Lavia è cambiata la tua vita per certi aspetti qualche anno fa i greci avevano diverse cose avevano anche le anfore le maschere per amplificare la voce questo mi fa mi fa domandare qual è il rapporto in questo spettacolo ma forse anche nell'ambito della della tua carriera teatrale con la voce la musicalità della voce dicevo lo spettacolo sembra un concerto perché da un lato ascoltiamo dei commenti di scena che ci producono un effetto di estrenamento sentiamo Gabriele Lavia che parla di Goldoni e poi entriamo nel personaggio del padre che si va decomponendo verso la fine in un crescendo comico fino a riconoscere la propria sconfitta e in quei momenti tutto avviene in maniera molto musicale sembra di assistere a un concerto polifonico di tante voci e voi come compagnia come vi intonate e cosa ne pensate dei microfoni e dell'uso della voce non so cosa pensano i miei compagni di scena del microfono io ho le idee molto chiare sul microfono il nostro spettacolo nasce perché ci siamo rincontrati vecchi amici ed è il teatro è un'arte collettiva diceva il mio maestro Streller è un'arte collettiva ma questa collettività deve essere stare in scena insieme comunque è un gesto d'amore ma non perché siamo amanti no perché stare insieme è questo e noi stiamo insieme sono persone noi ci conosciamo da una vita possiamo dire abbiamo fatto tanti spettacoli insieme siamo siamo amici e quindi lui per esempio Arlecchino mi ha fatto tante volte da suggeritore e poi ha fatto piccole parti e poi adesso a un certo punto delle prove lui doveva fare un servitore e io dicevo madonna mia sta parte che brutta e allora un giorno ho detto guarda ho avuto un'idea farai il personaggio più bello della tua vita di attore cosa perché dove come ti fai Arlecchino e mi è venuto in mente perché avevo voluto cioè il destino aveva voluto che io volessi mettere sul pianoforte un Arlecchino un fantoccio di Arlecchino sdraiato e non mi piaceva era una parte già porta questa lettera che lo portava invece nel momento in cui questa idea ha preso forma Arlecchino la scena di Arlecchino è diventata una cosa che faceva teatro perché appena il pubblico vede Arlecchino sorride e appena Arlecchino va via il pubblico sente che deve applaudire perché Arlecchino siamo noi non è che entra Arlecchino in scena e non succede nulla succede il teatro perché Arlecchino è un referente di teatro non è nemmeno un significante Arlecchino è punto ed è chi non si sa è questa figura colorata che attraversa la nostra la nostra vita appena entra Arlecchino il pubblico sorride lui si spaventa io ah chi sei tu il pubblico ride mi sono Arlecchino batoccio orbo di un'oreccia e sordo di un occio questa battuta che abbiamo rubato al Arlecchino servitore di due padroni e così è venuto abbiamo provato e poi alla fine è venuto questo spettacolo adesso noi attori siamo molto come dire superstiziosi in questo momento vorrei toccarmi una parte del corpo molto intima per cercare di scacciare via il malocchio sapete i giapponesi quando uno chiede a un giapponese dice ah come stai perché dicono che diversamente se ci si sa no bene si me la passo bene sai ho vinto anche all'otto passa l'angelo del dispetto appena tu dici che stai bene che tutto ti va bene arriva l'angelo del dispetto non mi ricordo come lo chiamano qualche tempo fa me lo ricordavo ancora e tutto ti va male allora è sempre meglio dire come stai e così insomma ci siamo incontrati abbiamo fatto questo spettacolo il pubblico era contento questo ve l'ho detta in giapponese basta e stendiamo lo sguardo io allo spettacolo Federica Di Martino interpreta Giannina il personaggio è deciso attua un progetto sotto traccia che riesce a portare a termine con costanza e con capacità anche a scapito un po' di tutti del proprio padre di costanza e in questo emerge anche una differenza di ceto sociale la figura femminile se le viene concesso dalla società in qualche modo ci mostra Goldoni riesce a ordire delle trame che hanno un buon fine in questo caso ma sembrano anche essere piuttosto prive di scrupoli a seconda del punto di vista a mio avviso l'interpretazione rendeva splendidamente diverse sfaccettature e allora mi piacerebbe aprire appunto un approfondimento sulla sulla figura di Giannina quello che hai detto è molto giusto il personaggio è moderno per essere fine settecentesco perché è contrariamente ai tempi una donna che riesce a sposare il marito che desidera e diciamo un po' tutti i personaggi femminili di questo testo anche Marianna che è una sorta di doppio di Giannina e anche Costanza per quanto è la donna gabbata però comunque viene fuori come una figura forte che a un certo punto della storia non so se hai notato trova addirittura la forza così la voluta Gabriele di opporsi al padre e per cui ce lo diciamo sempre ce lo siamo detti in sede di prova i personaggi femminili e quello di Giannina in particolare sono forse più difficili da interpretare in questo testo perché non possono sedersi sulle semplici gag ovvero un po' la scrittura di Goldoni e un po' la regia di Gabriele ha voluto che gli uomini siano essi i padri o anche il giovane innamorato sono un po' dei tontoloni in balia di uno spirito femminile che in qualche modo li manovra e vince li fa cadere vittime dei loro cioè nel caso del padre del suo vittima del suo stesso intrigo e questo Gabriele lo ha sottolineato benissimo secondo me nel rendere la come dire la sciocca volgarità dei vecchi che rappresentano anche uno spirito borghese che che avanza nella scena della lotta in cui i due sono talmente che forse sciocchi non è la parola giusta però talmente sordi nella ragione che arrivano addirittura da vecchi a picchiarsi a venire alle mani insomma che è un'immagine proprio raccapricciante insomma e questo è parlando di figure maschili gabbate comiche tragicomiche Riccardo interpretato da Andrea Nicolini ci mostra quanto fosse profondamente violenta razzista una certa borghesia europea in questo caso olandese ma sappiamo che appunto siamo nel contesto della guerra dei sette anni l'Europa è già stata percorsa e lo sarà ancora da guerre e non vi è niente di peggio per costui di doversi relazionare con un francese figuriamoci dagli in sposa la figlia e il personaggio è splendido in questa interpretazione e però è accompagnato anche da questo lirismo da questa musicalità la scena la scena di per sé è veramente molto musicale direi proprio per come è scritta nel senso che si arriva a questi questi comitie finali quindi c'è un crescendo molto forte in questa scena che parte già con tensione perché l'incontro tra Riccardo e Messio Filiberto è già di per sé un incontro che già si è capito fin dall'inizio che sarà un incontro proteso Filiberto in qualche modo vuole portare Riccardo verso la sua strada senza sapere che è la strada sbagliata ma a un certo punto lo scontro tra i due vecchi diventa talmente forte per cui musicalmente questa cosa e Goldoni l'ha scritta stupendamente diventa uno scambio sempre più veloce come una fuga diciamo come uno stretto dopo una fuga di Bach che inizia con calma con ciascuno che fa il proprio tema come sa chi frequenta la musica classica poi a un certo punto nelle fughe i temi si stringono sempre di più e ci sono gli stretti finali e qui si sente un po' quello fino a che come diceva Federica questi due vengono alle mani questa è la grande trovata di Gabriele secondo me perché arriviamo a un punto per cui Goldoni non la scrive così Goldoni scrive un ci vediamo presto è come se si dessero un appuntamento dietro il cimitero per omenarsi o spararsi ma invece Gabriele lo fa venire in scena e in scena la tensione è tale per cui questi due finiscono per terra quindi sì questa ci puoi raccontare qualcosa sulle musiche al pianoforte le musiche siete arrivati alla composizione delle canzoni la composizione delle canzoni è nata dalle grandi idee di Gabriele di parole di tutti i vari temi quello dell'amore dell'uso dell'amore amoroso quello iniziale di cose di cui vi ha parlato Gabriele sul teatro e la svolta misteriosa quello finale sono tutte parole ritmiche che Gabriele mi ha mandato per mesi e a quali io rispondevo con proposte musicali ma poi alla fine il lavoro forte è stato quello in prova cioè si può dire ho buttato via tre o quattro pezzi Gabriele più o meno no perché è giusto è giusto così è giusto così cioè Gabriele ti chiede sul momento e ha bisogno che torni a lui il lavoro è un regista vero e quindi deve tornare a lui non deve tornare a me per cui abbiamo lavorato in sede proprio di prove all'inizio delle prove abbiamo lavorato piano piano a stringere su cosa volevamo fossero le canzoni c'era e spero che arrivi al pubblico la richiesta di Gabriele per cui noi non solo pensassimo di cantare come si canta a Sanremo diciamo ma che cantassimo con quella quell'attitudine di portare dentro il pubblico di dirla verso di di trascinare il pubblico nella parola e far capire in questo modo bene la parola fra l'altro però di questo forse Simone grazie interessantissimo lo spettacolo si può vedere a occhi chiusi si può solo ascoltare e funziona benissimo i tempi sono perfetti c'è una musicalità magnifica e viene voglia di risentirlo registrato e in questo a mio avviso l'avia mostra quanta musicalità vi è anche nella prosa tutto sommato è un testo in prosa una prosa riformata peraltro che contendeva spazio alla musica anche commercialmente nei teatri di Venezia dalla metà del settecento vi è anche la fisicità e Monsio della Coterie è il personaggio che mette forse più fisicità o comunque ne mette moltissimo oltre ovviamente a dare le chine a tutti io l'ho notato anche nelle canzoni ad esempio a un certo punto osservando proprio il corpo e mi sono sentito portato dentro la canzone e a un certo punto ci hanno chiesto di cantare ed è stato bellissimo e mi sembrava di conoscerla la canzone non l'avendola mai sentita viene voglia di cantare di far parte di questo spettacolo quasi brechtiano per certi versi e vorremmo sapere forse la via fisica al personaggio come è stata costruita perché siccome il personaggio fa tante cose tanti gesti e più ne fa più diventa efficace anche comico però mostra anche fisicamente ogni cosa che lo riguarda è agita fisicamente da Monsieur de la Cotterie e in questo è davvero qualcuno che ha fatto un'esperienza fisica come la guerra tra l'altro come viene costruita nell'ambito di questo processo di spettacolo allora sì mi faccio un mazzo incredibile quando finisce il primo tempo sono da buttare via quattro magliette mi cambio e sudo assai ma tutto questo no si vede si vede si vede tutto questo diciamo che per quanto mi riguarda è il mio unico modo l'unico modo che conosco di fare teatro tantissime cose me le ha insegnate Gabriele con cui come ha detto prima ci siamo ritrovati con questa compagnia e questo appunto è uno dei segreti del successo dello spettacolo sempre passaggio quindi siete un gruppo siete una compagnia sì e le prove con Gabriele sono una cosa che solo non si può spiegare è un momento di grandissima intensità grandissima intensità in cui è uno di quei registi che non lascia nulla al caso quindi è uno spettacolo molto rigoroso seppur nel gioco anzi come lui dice sempre la libertà è limitatezza e quindi noi la libertà la troviamo solo in quel binario io personalmente non per vantarmi ma sono uno abbastanza malato cioè malato nel senso che le indicazioni io ci passo le nottate durante le prove a cercare di renderle organiche quindi siccome questo personaggio apparentemente non è nelle mie corde cioè mi hanno sempre fatto fare ruoli più drammatici in realtà qua mi trovo a fare il comico ed è un'esperienza fantastica per uno che ha fatto soprattutto il drammatico con tutto quello che comporta l'ansia di prendere le risate o di non prenderle perché non l'ho presa stasera ma perché è un'esperienza che si fa insieme al pubblico ogni sera il pubblico cambia quindi io mi sono creato una fisicità e ogni giorno durante le prove Gabriele diceva sì quella direzione là quel gesto tutti i gesti con le mani li abbiamo creati insieme e poi io però ho dovuto renderli organici quindi ho trovato un modo di camminare ho trovato un modo di respirare un modo di parlare in questo modo io posso provare ogni sera a fare andare in scena il personaggio che è quello che ogni tanto avviene che ogni tanto avviene ma non sempre perché siamo dei malati ecco come dicevo quindi ci vuole ci vuole un po' di follia non so se ho risposto sì un po' come l'avia guarda testi considerati minori di goldoni secondari i personaggi considerabili come secondari si potrebbe dire reggono lo spettacolo quasi come se tutti soffiassero al centro di questo spazio scenico per mantenere in aria una piuma che non cada mai e così costruiscono davvero lo spettacolo azione per azione scena per scena e ciò avviene per l'energia che viene spesa e dal punto di vista degli attori immagino dipenda anche dall'esperienza di lavoro con un maestro come Gabriele Lavia allora per voi che lavorate in questo spettacolo cosa cosa vi dà questa esperienza nella vostra arte e cosa potete dirci del vostro proprio apprendistato chi vuole parlare Giorgia beh il ruolo il mio ruolo intanto è il ruolo della della serva della cameriera la serva serve per intanto e serve alla trama anche moltissimo però diciamo che l'esperienza con Gabriele è sempre appunto intensa è quello che ha detto Simone non è bastante secondo me ti cambia come attore l'incontro con Gabriele proprio ti cambia ed è una 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 scelta diciamo eh molto forte quella di decidere di continuare a a lavorare in teatro perché appunto è è un'esperienza faticosa fisicamente psicologicamente soprattutto in questo momento il teatro non è esattamente al centro della scena del nostro paese non so se forse per voi sì perché ci andate ma in realtà non è più così e magari ve ne siete anche accorti per cui è proprio una una scelta e reale ecco ora per dire io per fare questo spettacolo non ho fatto la televisione avevo avuto due proposte televisive e forse il maestro pensare era meglio se le facevi perché non so però ecco io invece no ho deciso di fare lo spettacolo ma lo dico perché eh sì facciamo e è acceso ecco speriamo che questo non scrocchi o non scricchioli non so come si dica e e nulla è questo quindi è una scelta vera una scelta importante ti cambia lavorare con lui e ci tenevo a dirlo perché per nessun altro regista io avrei rinunciato ovviamente a fare la televisione perché purtroppo va detto la carriera di un attore adesso è nell'audiovisivo non è più nel teatro quindi eh in questo senso l'esperienza con Gabriele ti cambia ti forma ed è una continua possibilità di apprendimento di studio di messa in discussione di quello che pensavi di sapere di te che invece non era esattamente così anche io con lui ho fatto Shakespeare Ibsen ma non ho mai fatto eh Goldoni una commedia devo farla serva anche io teoricamente come physique du role non sono proprio di primo impatto una servetta goldoniana quindi secondo me è stata una sfida che non so se abbiamo vinto o non abbiamo vinto ma che ha fatto sia Gabriele eh insieme a me che abbiamo fatto insieme e io tutte le sere eh eh cerco di 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 farlo al meglio di aderire a a questo spettacolo che insomma al pubblico sta piacendo tantissimo bene chi vuole parlare Leonardo Nicolini eh servitore pardon secondo pianista chiedo scusa eh ma in definiti intanto dal tuo punto di vista anche il contributo musicale eh è qualcosa di nuovo rispetto alle esperienze teatrali che avevi avuto fino a ora allora io non ho mai avuto esperienze teatrali in realtà ah quindi eh cioè a differenza di tutti gli altri posso dire che per me il teatro in questo momento sta coincidendo con la regia di Gabriele Rabia quindi eh è un po' così c'è l'esperienza che ho fatto in questo momento questo è il teatro cioè ovviamente sono stato spesso a teatro perché il mio padre che è Monsieur Riccardo eh mi ha portato a vedere molti sui spettacoli però da dentro sostanzialmente questa è la prima volta io non ho un personaggio all'interno della commedia di Goldoni ma ho un personaggio nella messa in scena di Gabriele e il mio personaggio si esprime suonando e diciamo che la particolarità di questa messa in scena che fa sì che noi appunto siamo un gruppo di attori con sopra un costume accennato del personaggio quindi c'è sia la commedia che è rappresentata sia la rappresentazione degli attori che rappresentano la commedia e quindi il mio commento musicale nostro anche di mio padre non è soltanto secondo me un commento alla commedia messa in scena ma a quello che stanno facendo gli attori sul palco come se quello fosse la realtà di quel momento e questo beh sicuramente mi dà tanto come musicista il fatto che la musica accompagni la vita poi spesso nelle nostre vite la musica accompagna tantissimo va in giro con le cuffie io sono uno che ascolta la musica continuamente in ogni cosa che faccio quindi sicuramente questo dà molto questo complete integra la prima parte del discorso sulla musica che avevamo affrontato e sono stati accennati anche i costumi allora volevo dire non è un goldoni bianco e nero come magari soprattutto i più giovani se lo possono immaginare oggi ma è un goldoni a colori i costumi sono coloratissimi da un lato uniformi abbastanza uniformi tra i personaggi dall'altro appunto vari opinti arcobaleno e questo aggiunge un tono intanto di vita alla scena e dall'altro lato crea una piattaforma umana comune che è quella di tutti i colori e chi raccoglie tutti i colori è Arlecchino Lorenzo Volpe e Arlecchino è giocato in questo spettacolo mi avviso con molta leggerezza intanto ci mostra un goldoni che non riesce a disfarsi delle maschere perché gli tornano gli vanno appresso queste maschere e poi le ritroverà a Parigi di lì a tre anni quando si trasferirà a Parigi quindi quando si parla tanto di cacciata di Arlecchino in realtà è difficile a cacciarsi qualcosa che resta profondamente dentro di noi e in questo spettacolo appunto l'idea di Arlecchino abbiamo capito è emersa un po' come un curioso accidente e dal tuo punto di vista che ruolo ha Arlecchino nella tua formazione e nel tuo percorso anche sulla base di quello che stai facendo per me è stata una scoperta totale cioè io non me lo sarei mai aspettato di fare Arlecchino non avevo mai studiato commedia dell'arte e quando Gabriele mi ha detto te la senti di fare Arlecchino io subito ho detto sì perché in qualche modo dentro di me sentivo un'attrazione per quel personaggio e per la commedia dell'arte è ragione Gabriele quando dice che Arlecchino è il teatro e io un pochino facendolo mi rivedo in questa cosa cioè la capisco perché quando impari a fare quel passo quando impari a ragionare come Arlecchino ad avere a che fare con il pubblico quando fai un colpo di maschera o una cosa capisci che lì dentro c'è un'essenza teatrale e in più nell'esperienza mia che è stata una trovata un'idea di Gabriele posso dire che in questa esperienza c'è molto teatro per me perché io mi sono trovato da napoletano a dover imparare il veneziano a dover camminare come non avevo mai camminato tra l'altro non nel teatro di parrocchia cioè comunque in serie A diciamo quindi dicevo è una bella sfida però e devo dire che se ce l'ho fatta a farlo bene Arlecchino è perché mi sono trovato con un gruppo che ama il teatro è vero che noi vinciamo perché tutti quanti amiamo il teatro perché quando io avevo detto sì avevo fatto il passo più lungo della gamba perché mi ricordavo anche io Shakespeare che diceva essere pronti e tutto quindi sì sono pronto però non ero pronto non lo sapevo fare e Simone aveva fatto commedia dell'arte in accademia quindi ha detto guarda comunque il passo così è io lo vedevo lui che era distrutto finite le prove cioè così però gli sono comunque andato a rompere le palle e gli dicevo Simone per favore possiamo rimanere due ore oppure ci vediamo un poco prima e proviamo Arlecchino mi insegni qualcosa mi insegni passi e ci siamo messi prima delle prove dopo le prove e mi ha aiutato Andrea Niccolini conosceva di persona Enrico Bonavera che è l'Arlecchino ufficiale e mi ci ha messo in contatto mi ha dato dei consigli e poi è venuto anche l'ho incontrato anche a Milano e Gabriele l'ha chiamato per fare la lezione tutti quanti quando facevamo le lezioni guardavano a me che facevo Arlecchino e quindi se io sono riuscito a farlo bene perché alla fine non è che me lo dico cioè me lo dico da solo o mo' in questo caso però è perché il pubblico mi dice bravo è perché c'era questo clima qua perché il teatro si fa insieme perché se io avevo una compagnia di stronzi che dicevano vabbè ma il ragazzino ma era meglio che faceva il servetto e non rompeva così non lo facevo è diventato Arlecchino veramente allora io mi sposto qui ho portato il microfono di persona Guascogna è un servitore che accompagna Messia della Coterie ed è fondamentale per diciamo tessere la trama che farà fesso il padre peraltro si parla sempre di una linea Goldoni-Ibsen sembra quasi tracciare Goldoni-Strimberg a mio avviso con questo padre che alla fine riconosce il suo fallimento ebbene il servitore è fondamentale e e voi dal vostro punto di vista come avete affrontato questi personaggi chiedo poi anche a Marianna Costanza e così chiudiamo anche il cerchio quindi la vostra esperienza nel lavoro di compagnia che sta emergendo sempre più incisiva cioè un laboratorio di teatro in realtà questo spettacolo è diventato dove si è lavorato sulla musica sulle azioni fisiche su sui personaggi della commedia dell'arte sulla parola e la favella dei servitori è molto importante persuasiva e c'è anche il problema della lingua come vi trovate a recitare la lingua di Goldoni oggi che devo dire sembra assolutamente la nostra lingua sembra attuale non mostra la vecchiezza a mio avviso beh Gabriele fin dal primo giorno ci ha tenuto molto a rendere chiaro che dovevamo rendere questa lingua una lingua parlata e non scritta soprattutto anche per i personaggi dei due servi di Guascogna e Marianna ci chiedeva anche nonostante il linguaggio sembrasse alto ma di renderlo sempre come un linguaggio del corpo ci diceva il tuo personaggio non ha studiato non ha fatto l'accademia quindi si esprime in un modo diverso e questo ci ha tenuto fin dall'inizio e come raccontavano tutti i miei colleghi e le mie colleghe che durante le prove sono molto intense molto faticose e tutto il resto ma perché c'è un'attenzione al dettaglio formidabile c'è anche una voglia siccome Gabriele non è solo un regista è un attore quindi vede benissimo appena un attore si rifugia nella sua valigetta con i propri barbatrucchi con cui ottiene subito quello che vuole che lo lascia nella sua comfort zone lui ti porta all'estremo fino a che non capisci più niente e sei costretto a lasciare tutto e andare a trovare qualcosa di nuovo insieme a lui che poi devi riproporre metterci una vita dentro eccetera però tutta questa fatica perché è faticoso ma non esiste lavoro se un lavoro creativo non è faticoso non è degno di esistere al mondo proprio perché vuol dire non crea niente di nuovo tutto questo lavoro in prova tra colleghi con lui eccetera è quello che poi dà una grande libertà un grande gioco un gioco serio ma divertente in scena perché noi comunque siamo una compagnia che ci divertiamo cioè a me dispiace non essere fisso in scena perché quando non sono in scena sono triste cioè vedo l'ora e dico no voglio stare anch'io lì a fare questa cosa perché è proprio un gioco collettivo in cui tutte le regole tutto il rigore che hai dato prima permette proprio di stare poi solo sull'altro su quello che accade sul pubblico sull'atmosfera e insieme cercare di creare qualcosa di bello e vivo in quel momento davanti a quegli spettatori che contribuiscono attivamente allo spettacolo vado no condivido in realtà in pieno tutto quello che è stato detto aggiungo giusto due cose innanzitutto veramente per me gioca tanto a favore del del teatro della buona riuscita dello spettacolo l'avere a che fare con persone con attori con professionisti come sono tutti loro perché sono fermamente convinta che il teatro dipenda tanto dalle persone da quello che ognuno mette in gioco è stata personalmente un'esperienza molto molto bella perché la prima volta che col maestro ho un ruolo un pochino più grande avevo fatto dei piccolissimi ruoli nei due precedenti spettacoli mi sono misurata con un ruolo brillante che per me è una cosa nuova totalmente nuova anche inaspettata non mi hanno mai permesso di fare una piccola ricerca su delle caratteristiche che invece io adesso sono stata costretta ad esplorare la parte di una ragazza ingenua quasi bambina e questo per me è stato davvero molto molto bello molto interessante nonostante il periodo di prove sia stato molto duro anche per questo motivo ma è bello così ecco c'è stata una ricerca proprio da parte di tutti a 360 gradi sul lato fisico sulla parola proprio ovviamente e anche sulle musiche e sulle canzoni quindi insomma per chi cerca di fare questo mestiere non c'è niente di più bello e stimolante bene una parola per concludere a Gabriele Lavia con questo spettacolo ma forse anche con il suo fare teatro a me sembra Lavia attraversa il tempo il tempo del teatro e la storia del teatro e il nostro tempo presente come riusciamo a viverlo allora io vorrei domandare come vede Lavia il teatro oggi è molto è una domanda a cui è impossibile rispondere perché il teatro inteso come arte è un luogo non unico sono molti luoghi ognuno fa il suo teatro che è completamente diverso l'uno dall'altro sì si apre un sipario oppure il sipario è già aperto ma sono dettagli da un punto di vista filosofico sono molto diversi anche se uno non affronta un regista poniamo il caso che ci sia un regista che non ha una formazione comunque sia il teatro fa sempre della filosofia in quanto che cos'è il teatro è il sapere dell'uomo arriva qualcuno e nel momento in cui fa un personaggio dice faccio un un balbuzziente devo sapere qualcosa del mondo del balbuzziente se non altro che il balbuzziente balbetta non è poco vuol dire ripercorrere una propria storia personale in cui ha sentito una volta e ha vedo un balbuzziente e così faccio un esempio come è nata l'idea della lotta dei vecchi che è il punto secondo me nella mia come posso dire composizione dello spettacolo per me nel mio intimo è il punto più alto infatti i due vecchi la scena dei due vecchi che finirà che si picchiano si mordono comincia da lui che arriva dal fondo della platea perché siccome io sono un grande amante dei western so che prima di un duello devono arrivare da molto lontano è capito è vero vedo che lui è un grande conoscitore sappiamo perfettamente che è un campo lungo e arriva uno da una parte poi controcampo entra quello di spalle dall'altra parte poi primo piano sappiamo tutto di queste cose qui abbiamo imparato è molto importante che arrivi da lontano perché poi questi arriveranno a mordersi le dita a rotolarsi da dove nasce questa cosa quando ero bambino con i miei genitori abitavamo a Catania e lì ho visto una scena che non dimenticherò mai nella mia vita una scena di una violenza atroce due cocchieri era un'epoca in cui nel dopoguerra non è che ci fossero tante macchine poi a Catania una passava una macchina ogni tanto tassi c'erano delle vecchie balilla con la con la manovella e si andava in carrozza c'erano i cocchieri e la carrozza ovviamente i cocchieri non erano proprio persone di estrazione culturale particolarmente alta e un giorno passando da Via Etnea vicino alla villa Bellini due cocchieri si picchiavano ma si mordevano si graffiavano non ho mai veduto una scena più violenta in vita mia tanto che mia nonna nonna Carmela il nome già dice molto nonna Carmela ci disse piccirigi piccirigi e ci prese e ci coprì gli occhi noi eravamo allora tre fratelli non era arrivato ancora il quarto e ci copri gli occhi io ero il più piccolino e non volle che noi guardassimo questa scena però comunque io l'avevo vista e questa scena che non dimenticherò mai l'ho voluta mettere nello spettacolo perché è veramente orribile veder picchiarsi due ragazzini vabbè si picchiano è giusto fa parte dell'animalità dell'uomo il litigio ed è bello da un certo punto di vista ma due vecchi quando dovrebbero aver raggiunto non l'animalità dell'individuo ma l'umanità dell'uomo è veramente terribile e quindi mi piaceva che fosse nello spettacolo attraversato da questa violenza così stupida e malconcia anche perché sapevo che alla fine loro si dovevano abbracciare in qualche modo è venuta così e dirò del mio lavoro è la scena che mi piace di più anche perché stiamo stretti abbracciati il mio amico Nicolini e quando ci abbracciamo sentiamo qualcosa ci conosciamo da tutta la vita allora chiedo scusa per avere eroso tutto il tempo a disposizione ma era interessante sentire le voci di tutti io direi per concludere che questo spettacolo quando lascerà Torino ci mancherà molto lascerà un ricordo veramente di cuore e è una gran voglia di andare a teatro sperando di vedere appunto degli spettacoli che ci dicano ancora perché andiamo a teatro come scrive Goldoni talvolta l'immagina il vero supera l'immaginazione e deve essere reso più accettabile allora questa scena di violenza tra due vecchi che è assurda diventa fruibile e ci lascia un'impressione un ricordo questo spettacolo lascia tanti ricordi allora io proporrei che gli spettatori che non avessero già visto lo vedessero e poi si sa che è sempre possibile in qualche modo raggiungere gli attori quando uno spera di fare qualche domanda io cerco di farlo spesso allora grazie a Gabriele Lavia alla compagnia al centro studio del teatro stabile per aver organizzato questo splendido incontro e con questo vi complimenti a te perché è rarissimo avere un intervistatore così preparato